Ti sei mai chiesto cosa stia succedendo veramente alla principessa del Galles? La recente assenza di Kate Middleton dagli eventi pubblici ha sollevato molte domande e preoccupazioni. Ma c'è qualcosa di più dietro le quinte? Scopriamolo insieme! Non dimenticare di mettere un like, iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. È difficile non provare un senso di ansia e preoccupazione quando si parla della salute di una figura così amata. Kate Middleton è sempre stata una presenza costante e rassicurante nella vita dei britanni, e vederla scomparire dalla scena pubblica lascia un vuoto che non passa inosservato. Ma perché Recarlo III avrebbe deciso di sostituirla? Cosa c'è di così grave da giustificare una mossa del genere? In questi giorni, il mondo intero sembra sospeso in un limbo di incertezza. Le voci si rincorono, alimentate da tabloide e media di tutto il globo. Alcuni parlano di una grave malattia, altri di pressioni e stress insostenibili. Quello che è certo è che la Royal Family sta affrontando un momento delicato e ogni decisione è osservata con lente di ingrandimento. Non possiamo fare a meno di notare che agli eventi pubblici della famiglia reale, una figura si sta facendo strada con sempre maggiore frequenza, Beatrice di York. La figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson sembra aver preso il posto di Kate Middleton. Un semplice caso o una strategia ben studiata? E cosa c'è dietro questa scelta? Ogni comparsa di Beatrice di York sembra essere un messaggio implicito. Una sostituzione che porta con sé una serie di interrogativi. È solo un supporto temporaneo o qualcosa di più definitivo? Cosa significa per il futuro della famiglia reale e per il ruolo di Kate? Umberto Brindani, direttore di Gente, ha alimentato ulteriori speculazioni durante un intervento a porta a porta. Ha suggerito che le condizioni di salute di Kate e del Re Carlo potrebbero essere più gravi di quanto si sia lasciato intendere fino ad ora. Per quanto riguarda lo stato di salute di Carlo e di Kate, il principio di privacy vale anche per loro. Però, senza entrare nei dettagli, quello che noi abbiamo saputo è che, a differenza di quanto si dice a Londra, le condizioni di Carlo e soprattutto di Kate siano più gravi di quello che si tende a dire, ha dichiarato, gettando nuove ombre sulle già fitte nubi che avvolgono la Royal Family. Le parole di Brindani non fanno che confermare i sospetti di molti, qualcosa di serio sta accadendo. Ma fino a che punto possiamo fidarci di queste voci? E cosa significa realmente per il futuro della monarchia britannica? Non dimenticare di lasciare un commento con la tua opinione su questa situazione. Pensi che la sostituzione di Kate Middleton sia temporanea o definitiva? E secondo te, quanto dovrebbero essere trasparenti i reali riguardo alla loro salute?